Apocalisse significa rivelazione e non shagura come erroneamente inteso da molti. E più precisamente rivelazione di Gesù Cristo. Il libro fu scritto dall'Apostolo Giovanni in esilio a Patmos durante i tempi della persecuzione di Domiziano ed è essenzialmente un libro di consolazione per i fedeli di allora e per i fedeli di ogni epoca durante ogni persecuzione nella storia della Chiesa. Nel libro è descritto Gesù Cristo morto e risorto quindi vittorioso che conferisce ai suoi una garanzia eterna. Io verrò presto. La Chiesa di comune accordo risponde Maranatà. Vieni Signore Gesù. L'Apocalisse non è un libro di terrore ma di grande consolazione, di conforto. Pur non ignorando la drammaticità della vicenda umana, storia di guerre, di oppressioni, di sofferenze di ogni tipo. L'opera si presenta con il suo linguaggio allegorico e simbolico come interpretazione del presente nella quale già vi sono i segnali di quanto accadrà nel futuro. L'Apocalisse ci comunica realtà che non sono raggiungibili all'uomo ma che si possono conoscere solo per rivelazione, svelamento. Lo Spirito Santo attraverso l'Apocalisse ci invita a vedere la storia umana all'interno di una verità assicurata ovvero quella che il male ha già perso. Satana è già stato sconfitto perché Cristo crocifisso e risorto, l'agnello di Dio ha già vinto e con la sua vittoria l'eternità è entrata nel tempo. Il regno di Dio quindi è già una realtà ed è stato inaugurato da Cristo ed è venuto a dimorare anzitutto nei nostri cuori. Il messaggio dell'Apocalisse quindi è che il male ai giorni contati. Dio è sovrano nella storia su tutto e sopra tutti. Per coloro i quali hanno confidato in Cristo vi saranno nuovi cieli e nuova terra e il Dio dimorerà per sempre col suo popolo. Aspettiamo solo la manifestazione finale del Signore. Diamo gloria a Dio e giubiliamo per questo. a Dio e giubiliamo per questo.